allora sono qua in google ok scrivo igus cad library e schiaccio invio ok a questo punto vado qui create crea 3d printing model in your cad library in easy step io clicco qui ok vado giù a vedere ok e a questo punto schiaccio qua e sono altri print card configuration tool che è quello che mi serve a questo punto aveva fatto vedere per ingranaggi per ruote dentate la becca in maniera mi sembra banale quello che mi interessa che non so è per puleggia con cinghia e dunque vado qui sono curioso di vedere se ci sono i vari tipi ok puleggia per cinghia va bene è simile a quella del 3d ok naturalmente cambiano i denti a questo punto io faccio semplicemente quella di un foro più semplice ok perché sennò dovrei vedere se facciamo quello della linguetta ok cavalinguetta hd 1t poi mettiamo i dati eccolo qua tipo di profilo e dunque abbiamo t 2,5 t 5 t 20 a t 3 a t 5 a t 10 a t 20 ok disegno dimensionale lo vediamo qui questo è importante così vediamo tutti i nostri dati ok io faccio veloce perché lascio così standard che ok spalla no se metto sì mi dirà lascio qui puleggia flangiata sì lascio i dati standard ok diametro interno facciamo facciamo 2 mm lasciamo tutto così larghezza scanalatura comunque tutti i disegni li vedo qua di tutti i dati ok questo è importante a questo punto larghezza flange a b4 diametro flange a b4 diametro interno larghezza scanalatura k e t che sono questi qua k e t ok al di là che questi qua io posso l'importante sono i denti dopo questo si crea modo facile tranquillamente anche con con solidox a questo punto il mio power solid è a questo punto andiamo a vedere se mi carica ok vai al download center scarico la cinghia ok download e poi vado a vedere qua no vediamo se arriva solidox e questa sarebbe la mia puleggia un po così al di là che anche qui ecco con questo tutti i dati così sono sbagliati ma era semplicemente per far vedere che posso crearmi la puleggia e naturalmente che tipo perché non ci sono tutti i tipi va bene spero di essere stato utile ci vediamo la prossima arrivederci